Tra il 1956 e il 1964 Calvino attraverso una sorta di crisi, una crisi creativa che corrisponde all'uscita dal Partito Comunista nel 1957 e quelle che saranno le prime cosmicomiche, attraverso cui la crisi creativa si trasforma in qualcosa d'altro, come se uno scrittore morisse e rinascesse dalle proprie ceneri, una sorta di araba fenice. Prima di arrivare lì, prima di arrivare a quel punto delle cosmicomiche, c'è un altro antenato, un antenato che definisce molto bene la situazione anche esistenziale che Calvino sta vivendo. Parlo di Agilulfo, che è il protagonista del Cavaliere inesistente, è un libro del 1959, è un libro in 12 capitoli. I due protagonisti del Cavaliere inesistente sono Agilulfo e Gurdulù. Agilulfo è un cavaliere che non c'è, aprendo la sua armatura, guardando dentro, non c'è nulla. E' il nulla che attanaglia anche Calvino, è il suo problema. Ma al tempo stesso c'è un altro Calvino ed è incarnato dalla figura di Gurdulù, questa sorta di servo che rotola, che è sempre sporco, che è esattamente il contrario del Cavaliere. Lui c'è, c'è anche troppo, c'è in modo caotico. Mentre Agilulfo è coerente, geometrico, ma non esiste, è un romanzo che racconta questa dualità calviniana. La presenza e l'assenza, la lontananza e la prossimità. Ma è anche un punto di moralità di Calvino. E la morale di Calvino è una morale inattesa. La positività degli stati di privazione. Anche il non esserci, o l'essere poco, o l'essere nulla, ha un elemento positivo. Calvino scopre, attraverso questo personaggio dentro di sé, l'ha già probabilmente scoperto, questa natura positiva dell'essere privati di qualcosa.